a te non ti piace i miei piercingi all'orecchia? no per niente iscriviti i ne non ti pare Questo è prima la guarigione, poi vedremo cosa metterci, guarda anche lì qua. Adesso guarda che riesce a muoverci di sopra, adesso tocca sopra, tocca sopra, tocca sopra. Sì, sì, sì. Va bene, grazie mille.